Salve a tutti, sono qua in Israele con gli altri anni nostri che avrà a settembre per due eventi molto importanti a Roma e a Milano. Sì, sono felice di essere invitato e di come a tutti. Roma e Milano, città in merito, città in Italia. Siamo arrivati qui, ragazzi, tutto il buono. Grazie a tutti.